La forza del Trentodoc è il territorio, è la montagna. La montagna esce fuori sotto tutti i punti di vista. Quindi la verticalità, la freschezza, queste sensazioni aggrumate che troviamo nel calice, all'olfatto ma soprattutto al palato. Poi dipende dai vari piccoli micro areali che troviamo su questo territorio. Quindi abbiamo un'altra vale di laghi che sono a volte più accomodanti ma dipende, dipende sempre dal territorio perché ci troviamo nella zona più calda, nel nord. Siamo proprio c'è un lago di Garda, qui c'è un vento tutti i pomeriggi che è l'ora del Garda, quindi regala quasi un clima mediterraneo. Fino ad arrivare invece a dei territori più estremi come la Val di Cembra, qui abbiamo Altura, abbiamo il Porfido, abbiamo un clima quasi continentale dove l'ora del Garda arriva stento, quindi abbiamo inverni molto ricidi, quindi c'è una verticalità tutta madre del Trentino. Grazie.